Ciao a tutti che ciotti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di modcraft ita ci ritroviamo dopo tutti i bisogni sono stati Preregistrati dopo la mia partenza per il giappone bene sono tornato e questo è il primo episodio che registro dopo tutti quelli lì allora ci siamo lasciati l'ultima volta con un bellissimo e importantissimo fail che ho fatto perché ero convinto che un macchinario che ho craftato quello delle nether star questo qua per la precisione nether star generator ero convinto che generasse nether star invece al contrario è un generatore che utilizzare nether star per generare rf quasi dieci minuti rf con i tanti però a un costo elevato cioè la nether star molto meglio utilizzare tutti i solar panel che abbiamo qui da parte cioè sono potenti uguale sono forse overpowered se pensi che con la nether stati dei dieci milioni e dieci milioni con questi due in un po di tempo li fai comunque a nether star all'inizio l'avevamo cercata per fare una cosa in particolare cioè per craftare la spada della draconica evolution allora cosa ho fatto ho cambiato un po il modo di fare ho sostituito lo spawner all'interno di del mio mob spawner diciamo artificiale con dei wheeler schedule nuovamente non so se ve lo ricordate ma c'era già all'inizio il wheeler schedule per prendere le teste di wheeler per farle restare poi pensavo di poter generarne altre ma in realtà è stato un bel fail e ho anche sostituito tutte le spikes e guardi faccio vedere perché le spikes hanno una particolarità io avevo quelle d'oro perché con gli endermen mi interessava prendere le ender pearl e l'esperienza che mi davano gli enderman quindi ho fatto le gold spikes lo stesso crafting se modifichi con i diamanti ti da i diamond spikes diamond spikes la loro particolarità è che ti danno anche oggetti che otterresti solamente uccidendoli tu un giocatore ad esempio le teste del wheeler e tutto questo va a parare lì voglio le teste del wheeler ne voglio tante voglio tante stelle nel nether perché mi servono per la draconic evolution poi ci sarebbero anche altre cose sono queste creati spikes ma non si possono craftare se clicco non mi dà la ricetta e se non sbaglio sono tipo delle spikes se uno vuole fare un mondo in creative e cose del genere ho anche modificato un po qua tutta la situation ho messo una cesta enorme dove tenere le cose e tra poco metterò un filtro che mi va a rimuovere tutte le stone sword perché in effetti cioè sono davvero tante e sono scomode comunque come vedete ho altre 23 with the skeleton skull che non sono tantissime se considero che comunque questa questa piattaforma qui ce l'ho da un po non sono tantissime però però non è male è anche una bellissima fonte di ossa e altre cose che potenzialmente potrebbero servirmi comunque per il momento direi che possiamo mettere in pausa il nostro sponer ho anche messo una scaletta qui così è più facile atterrare con il jetpack e posso anche prendere un paio di queste teste ne prendiamo tre perché voglio vedere il metodo con cui uccido i wheeler skeleton che non è nulla di troppo complicato anzi estremamente semplice forse troppo semplice per essere in un mondo con le mod ed è anche per questo che forse lo voglio automatizzare perché tramite dei blocchi posso piazzare le teste nel guider sopra la sol se nazi veniamo già la sol se diciamo che per essere nelle mod è ancora tutto abbastanza manuale ad esempio qui abbiamo un bloc placer della project red expansion un auto placer della actual edition insomma si può fare phantom placer non so cosa sia mi dovrei informare comunque andiamo nel nether e utilizziamo il metro che abbiamo sempre utilizzato molto più facile tra l'altro da utilizzarlo in questo mondo con le mod perché la bedrock assume una posizione di base che è dritta cioè non ha non ha diciamo cose irregolari guardate se vado qua in cima è tutta piatta la bedrock a differenza invece magari del dei mondi in vanilla in cui per fare una cosa di questo tipo devi cercarla o di avere culo come è successo per esempio in mezzo in minecraft lui ha avuto davvero tanto uno facciamo craftare facciamo spawnare questo idere andiamo ad ammazzarlo insieme le strutture dovrebbe esplodere forse un po di netherrack lì non dovrebbe essere troppo troppo disagio esatto vai casino a manetta non si capisce assolutamente nulla però ammazziamo il guiderone bello vieni qua un morto da me la tua nether star e ora ne ho due a disposizione e direi niente male e andiamo a craftare quello che è da qualche episodio in realtà che cerchiamo di craftare perché tutto 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 questo ambaradam ho fatto per craftare la spada la prima spada che si può craftare nella draconic evolution che è un po questa mod da late game che è molto molto potente infatti da quando iniziato questo pacchetto in moltissimo avete scritto su re fai assolutamente la draconic evolution dai un occhio draconic evolution che è questa mod qui con tutte queste cose particolari e la prima spada che possiamo craftare è questa qui sword of the wyvern contro per apg si possono fare degli upgrade evidentemente ma a noi non ci interessa per il momento ho già preso tutti crafting tra l'altro e l'ho messa all'interno dei miei crafter guardate qua c'ho tutto praticamente tutto ciò che mi serve mancava no qua ci sono le spikes c'era qualcos'altro se non sbaglio ma non so dove l'ho messo comunque Se io vado qui e gli dico ho bisogno di una di queste sword of the wyvern metto le mie nether star qua dentro e dovrei essere capace di craftarne una di queste quattro e queste sono tutte le cose che servono perché serve wyvern corn corna certo core spada di diamante tutte robe del caso Wyvern energy core che si crafta con quattro di questi più nether star insomma non è proprio proprio easy sette diamanti anche diamanti Usati un botto però per fortuna ne avevo da parte facciamo start e otteniamo signore e signori con calma la nostra sword of the wyvern che bella a questa è una spada normale come dimensioni no come qualsiasi attrezzo di minecraft questa è lunghissima scusa guardiamola dall'esterno e che figata bella proprio bella e potenzialmente sword of the no the draconic evolution che non sono capace a scrivere ce ne sono altre di più belle ancora perché poi c'è la draconic sword che dovrebbe essere la finale in realtà Forse c'è qualcos'altro no la draconic sword della più forte che puoi avere 16 milioni di rf Però per farlo avevo bisogno di questa sword of the water che abbiamo appena craftato di un fusion crafting che non so come si faccia Di questi awakened draconium ingot draconiche energy core che un mio dio raga cioè E diciamo che un po è un po complicaticcia ecco diciamo che sì Un'altra nether star Con quattro wire core quindi mi uso di tipo dodici dodicimila nether star che va bene ok Comunque vedete che qua in basso a destra ora non lo vedete ma mi è comparsa una cosa che scrive profilo 1 attack radius 0 Non so come si cambia né come funziona assolutamente questa cosa però che dite se proviamo a caricarla Ok forse dovrei caricarla all'interno di queste cose qui così va molto molto più veloce per fortuna Tanto abbiamo 45 milioni di base di riserva Posiamo la nostra di ender la posiamo qua dentro e la proviamo che dite proviamola ora non so se ha qualche effetto particolare Nel senso diamo un occhio Contro for upgrade Quanto danno fa fa 15 di attack damage Che non è male è anche abbastanza veloce gli aprile come si fanno scusa se io cerco draconic Mi sa che sono questi E infatti E per farli orca vacca abbiamo bisogno di un bel po di roba per farle Ah e soprattutto abbiamo bisogno di un fusion crafting Questo serve a prescindere sai quasi quasi mi conviene craftato non costa tanto Potrei farlo in realtà questo fusion crafting poi comunque bisogno di energia si diciamo che dovrei aver tutto per fare Fusion crafting però io voglio provare questa spada abbiamo fatta costa un bel po perché il costo davvero tanti materiali Però dovrebbe essere davvero forte Però non è una caverna Ok come ho detto non trovo una caverna super Cattiva eccoci Ciao zombie Quanto ti ho elevato? Ok non poco Diciamo che quasi one shotto i mob Vuol dire che se ci metto sopra l'update Cioè l'upgrade dell'attack damage Washottero ai mob E non è una cosa brutta anzi è una cosa molto comoda Certo non ho lo stesso vantaggio che ho con la spada delle ecco ad esempio guarda qui che pieno di mob Ecco lui non è esploso con due colpi perché non ero al massimo della potenza Se invece vado così ce la fa Vabbè diciamo che è da upgradare è forte perché porca vacca è forte Ma potrebbe esserlo di più Abbiamo quattro blocchi di lapislazuli Quattro diamanti Cacchio mi è rimasto un meno di uno stack Craftiamo uno di questi bellissimi simpaticissimi Non i wyvern core L'altro voglio Questo qua Il draconic core Start Dammelo Dove l'aspetto ve l'aveva messo Eccolo E posso craftare invece l'altro amichetto mio Qui facciamo così Così Boom Abbiamo un draconic crafting core A questo punto mi viene quasi spontanea la domanda Non mi converrebbe creare un'altra stanza dove mettere Tutte le cose che riguardano Quest'altra draconic evolution cosa Potenzialmente si Allora intanto piazziamolo Capiamo come funziona Se lo metto qui Riceve energia Oddio non è successo Show recipes Ah queste sono tutte le ricette che si possono fare Però non mi dice se ha un coso interno Niente Ok Un po' particolare Facciamo altri due di questi Perfetto voglio farmi uno di questi upgrade L'attack damage upgrade Cioè voglio capire come si fa ragazzi Voglio capire perché è una mod che sembra davvero interessante Ora ho questo upgrade key Come lo uso? Devo usare il fusion crafting Con tutte queste cose Ok e un altro draconic core Vabbè prendiamo il draconic core Un altro Cioè è un casino È un casino incredibile questa mod E per fortuna Immaginate se io non avessi l'autocrafting Che cosa dovrei fare per fare tutte queste cose Cioè sarebbe impossibile Perfetto Dovrei avere tutto In teoria Mi verrebbe da dirvi Dormiamo così Ma non ci danno fastidio Proviamo a piazzare questo coso E a capire Come si fa Per il momento lo piazzo qui Ci metto dentro La mia spada Beh non ho capito assolutamente nulla Come funzioni È più complicato Di quello che immaginavo Quanto pare servono Anche degli injector Inge Queste cose qua Ci sono di diverso livello addirittura Ma quello base è il basic fusion injector Abbastanza facile da craftare Mi servirebbero altri draconic core Facciamolo È un casino Stavo un botto di materiali Ok ho messo il crafting E dovrei poter Craftarne Quanti ne voglio E me ne servono 8 Tutto Ho tutto Craftiamoli Ora per il momento Quello che dovrei fare in realtà È creare subito l'altra stanza Allora diciamo che abbiamo bisogno di Il fusion crafting core In mezzo Abbiamo bisogno di questi Injector 4 No 4 per lato Di qua E uno Di qua C'è un set di qua E un set di là Sono loro che devono avere l'energia Non il fusion crafting core E quindi Niente Diamogli energia Cioè Qua dovrei avere No questo è l'item conduit Non dà energia Dov'è che arriva energia Qua forse arriva energia Sì ma l'energia che serve a me Vuol dimmi che non ho energia Che mi arriva qui Cacchio che palle Allora vizio che è una cosa temporanea Farò una cosa di questo tipo Li metto esposti Tanto non mi interessa più di tanto Nel prossimo episodio avremo una stanza dedicata Per questa mod E ho solamente bisogno Di farvi vedere come funziona Almeno uno Di questi rituali Perché non è proprio una ricetta Una roba un po' più particolare Ok Ora che ci hanno energia In teoria No No Mi dammi sto cosa Non stanno ricevendo energia Come cacchio Dai Ricevi energia Non rompere il Kaiser Va bene Facciamo così Mettiamo una ricetta Quindi mettiamo la spada qua dentro Abbiamo detto che per usare questo Dobbiamo metterlo Da una parte Insieme a Eye of Ender Diamante e mela Ecco mettiamo Uno di questi Uno di questi Uno di questi Uno di questi E dall'altra parte No aspetta Non volevo metterne due Porca vacca Un po' bugatina sta mod Dovrebbe capire Di metterne solamente uno Uno diamante Una mela d'oro E un eye of ender Anche di qua Un eye of ender Un diamante Una mela E uno di questi Ora quando Eccolo Ora mi dice start Facciamo partire Che dite Ci proviamo Grazie al Kaiser Che è una mod Che è una mod Di fine gioco Cioè Di late game E' Incasinatissima Facciamo partire Start Ora sta prendendo energia Come vedete qui Piano piano Ci sono dei fulmini Ci sono dei rumori Doveste sentirli Gli oggetti Si stanno Chiudendo dentro una bolla Ok Ci vuole un po' di tempo In realtà Ah no Quasi finito 80 90 Pensavo ci mettesse un po' di più In realtà Che sta succedendo Ok Ci sono Le palline Stanno girando Intorno alla spada Che sta succedendo Ok Ehi Ehi Con quali effetti sonori Me lo stai dicendo Ah che figata Ora esplode tutto raga Ma no Quel paese Tutta la serie Oddio Che bello E mi rimane questo Ah Ho capito Allora ho capito In base In base al livello Ho bisogno di altre cose qua vicino L'upgrade key è la stessa Quindi posso anche Aumentare il livello Tier caotico Ho bisogno di uno sfraccello di roba Che non ve lo dico manco Ho capito Cioè penso di aver capito In questo modo Ho attack damage basic Vuol dire che mi ha aumentato di quanto Ma non di tantissimo in realtà Cioè di davvero di poco Era 18 Era il 18.75 Tipo Sai che non mi ricordo di quant'era Vabbè Comunque Questo è Il fusion crafting core Si possono fare tantissime cose Di questo tipo Però lo vedremo magari meglio Nel prossimo episodio In cui avrà anche Tutta una stanzetta sua Intanto Per questo video è tutto Mi ringrazio tantissimo Per la visione Ci vediamo nel prossimo episodio Di minecraft mod Io vi saluto Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti